Si è spento ieri alla veneranda età di 108 anni George Loinger, partigiano francese e decano della resistenza antinazista, partecipò al progetto della nave Exodus che nel 1947 tentò di portare migliaia di ebrei scampati alla Shoah nella Palestina sotto il protettorato inglese. Era nato nel lontano 1910 a Strasburgo da una famiglia di origini ebrei ortodosse. Loinger fu fatto prigioniero dei nazisti, inviato in un campo di lavoro in Baviera. Riuscì a fuggire, si unì alla resistenza francese in Borgognona e tra il 43 e il 44 andò a salvare centinaia di bambini di nazionalità ebrea. Loinger ricevete la legione d'honneur nel 2005 e fu ricevuto dal presidente israeliano Shevon Peres nel lontano 2013. Vi ringrazio per l'astorto, il video termina qua. George Loinger riposi in pace. Amen.